Mister, una vittoria importante, assolutamente non scontata innanzitutto per l'avversario ma anche per le condizioni in cui è maturata visto che ha riscaldamento ultimato, è arrivata la notizia della salvezza in virtù del capo contro Bologna quindi è una bella prova anche come atteggiamento, come solidità mentale della squadra Sì, direi di sì e direi anche che è giusto separare le cose un conto è quello che arriva dagli altri campi, un conto è quello che dobbiamo fare noi che è dare tutto quello che possiamo dentro al nostro di campo, nella nostra partita questa cosa è stata soddisfatta nel primo tempo direi bene poi una stanchezza molto diffusa ci ha impedito di gestire il campo come secondo me avremmo potuto Mister, era importante anche dare continuità al trionfo contro la Juventus una vittoria importante anche sotto questo aspetto la squadra ha dato risposte positive nonostante ancora una volta l'asso di tempo ridotto per preparare la partita l'emergenza infortuni ma anche delle ottime risposte dalle rotazioni rientrate molto bene Wallace e Lasagna, oggi ha riposato Fofanà credo che sia un altro fattore positivo questo Sì, abbiamo un punto di domanda grosso su Nuitink che è uscito e non so, vabbè vedremo io molto semplicemente le dico che questo è un momento bello molto bello che aspettavamo tutti quanti da mesi ci abbiamo lavorato molto credo che abbiamo profuso ogni energia che avevamo e quindi adesso intanto mi godo questo momento qui bello e poi affronteremo spero al meglio delle nostre possibilità le altre due partite Grazie Grazie Grazie